Le aspettative erano piuttosto preoccupanti all'inizio, invece la realtà ci ha sconfessato perché sono stati ben 13 i partecipanti. La prima fase del concorso per un nuovo monumento agli alpini è ufficialmente conclusa. Tre sono i progetti finalisti che ora dovranno presentare un modello tridimensionale per consentire di proclamare vincitore. Il tema proposto era impegnativo. Alpini tra la gente e per la gente, questo è il tema che deve, che doveva e che ha ancora come veicolo per i progettisti o gli ideatori, gli artisti che hanno partecipato, che stanno partecipando. Non è facile interpretare un tema, è anche una cosa molto originale, non così scontata. Ma diciamo che è stata una sfida. Alcuni artisti hanno stereotipato, hanno stilizzato in maniera tale che non si capisse bene il concetto dell'alpinità. E quindi noi volevamo a un certo punto che questa alpinità fosse materialmente concreta. Concretizzare un'idea non è stato facile, evitando gli stereotipi. Si vede sempre l'alpino, va bene, col suo fucile, col mulo, col cararmato, che so io, con tante altre armi, eccetera. L'arma non l'abbiamo, abbiamo deciso che non ci fosse. Perché? Perché oggi l'alpino è un volontario, soprattutto. Si mette al servizio della gente. Il nostro statuto recita anche a ricordare i morti per aiutare i vivi. Entro il 14 giugno i pozzetti dovranno essere presentati e il vincitore sarà proclamato entro il 9 luglio.